ciao ragazzi bentornati in questo video oggi super unboxing super speciale guardate un po qua dietro cosa c'è è arrivata ma prima di andare a scartare il regalo iscrivetevi sul canale seguitemi anche su instagram e vai con la sigla siamo pronti per l'unboxing aspettiamo qualcuno che mi dà una mano e tiriamo su la scatolona e vediamo la bomba ci siamo con me c'è matteo che non si vuole far riprendere ma lo vedrete mentre tira sulla scatola tiriamo sulla scatola ora la scatola magica è ancora dentro il telo adesso leviamo il telo a te l'onore di togliere il telo che emozione il mio palletto piedi ragazzi siamo ci siamo bello cazzo si vai pronti vai madonna che spettacolo adesso proviamo a salirci su porca miseria bellissima cazzo cazzo ecco la qui ragazzi colore è veramente stupendo da viva ancora più bello non vedo l'ora di montare in sella in questa bellissima moto scrivetemi nei commenti quale modifiche secondo voi sono più attendibili in in questa moto io non ho già in mente un po' naturalmente il mio che bello già viaggia mi raccomando state sintonizzati perché ci sarà un nuovo video insieme a lei la mia fast johnny e un'altra st la st il diavolo faremo un video insieme la st il diavolo insieme e faremo la comparazione fra le due moto grazie ragazzi per avermi seguito vi aspetto al prossimo video e buona strada a tutti grazie